Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha convocato tutte le commissioni consigliari che si riuniranno tra domani e dopodomani per eleggere rispettivi uffici di presidenza. Una volta compiuto questo fondamentale adempimento, le commissioni potranno iniziare la loro attività. Presidente Di Pangrazio, dunque l'attività legislativa a Palazzo dell'emiciclo entra nel vivo. Sì, subito al lavoro anche le commissioni. Ieri sono arrivate le ultime designazioni da parte dei capigruppo. Oggi ho convocato immediatamente, anzi ieri per la verità pomeriggio, ho mandato la convocazione per le commissioni di mercoledì pomeriggio, prima, seconda e terza, giovedì pomeriggio le altre a seguire in modo tale che mettiamo il Consiglio regionale nella pienezza delle sue funzioni. Quindi condizione subito per poter lavorare, proporre leggi ma soprattutto per fare attività che serve ai cittadini abruzzesi e all'intera regione. Presidente Di Pangrazio, oggi peraltro c'è stata la prima seduta della conferenza dei capigruppo. Sì, prima conferenza, un clima abbastanza disteso e collaborativo, ma più che collaborativo devo dire con grande contributo da parte di tutti i capigruppo. Ci siamo intesi subito, adesso vediamo come organizzare, abbiamo organizzato o meglio il calendario dei lavori, subito, prossimo martedì 15 luglio, primo Consiglio regionale. Vediamo lì come andrà. Sicuramente ho capito che c'è da parte dei capigruppo, ma in maggio da parte di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, un modo diverso di operare. Tutti insieme per ridare dignità alla nostra regione, ma soprattutto per far bene per i cittadini abruzzesi.